sicuramente underground 2 pensavo di fare la modalità classica però è troppo cambia velocità dobbiamo girare dobbiamo sorpassarti e svoltare diria non fare cazzate no 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 è un piano ti ho sorpassato mamma mia hai visto che sorpasso queste erano delle cose più vietate possibili hai visto le sorpasso si ma non potevi fare una cosa del genere mi hai fatto delle zare capelli ti ho fatto un sorpasso stupendo mi hai fatto fermare un cuopo minchia ho fatto un sorpasso meraviglioso mi hai fatto trasformare le mutande in marroni in che? in marrone ah perchè? perché ti sembra io ho già un carico non ho un carico prezioso che basta il minimo urto e quelli mi pagano di meno esagerato neanche ti ho sfiorato ci è mancato ci è mancato un pelo però neanche ti ho sfiorato tutto perfettamente calcolato tu sei fai schifo in matematica non ti ho sfiorato ma perchè hai voluto culo no perchè era tutto calcolato non puoi sorpassare durante l'uscita dalla tangenziale col canon si e anche col motorino puoi farlo col motorino si perchè è piccolo ma non puoi ma al massimo voli via al massimo solo che si ha uno solo e collo in meno ma al massimo voli via sai che succede? c'è meno lag così grazie grazie grazie